Eccoli tutti pazzi per Tadei, vincitore del Giro d'Italia, siete tutti qua per Tadei Pocaciar. Qui sono state scritte tutte le vittorie, ottenute da Tadei nel corso, non tutte perché sono tante, probabilmente non c'entravano tutte, quindi qualcuna macchina. Facciamoci la fada tutti quanti, facciamoci la fada tutti quanti, vai vai, tra, fai la forte. Grazie. 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 Grazie.